una buona giornata miei cari iniziamo questo giovedì parlando della partita di ieri sera una partita molto attesa molto importante per definire per livellare finalmente questo campionato in vetta era una grande occasione per la lazio l'occasione di segnare fortemente il volto della classifica è arrivato uno zero a zero con il verona non è arrivato il sorpasso all'inter e quindi abbiamo tante cose da dire tante cose da valutare l'ho fatto anche questa mattina sulla mia rubrica settimanale che trovate sul sito star casino punto sport pensare con i piedi un pensiero un po' differente sulle vicende del calcio nostrano e non solo vi invito ad andare a vederla ad andare a leggere le mie riflessioni vi metto ovviamente in descrizione il link per poterci arrivare comodamente dicevamo di questo lazio verona zero a zero per alcuni e non sono pochi ha il sapore dell'occasione sprecata ancor di più è la dimostrazione del fatto che la lazio difficilmente potrà arrivare fino in fondo potrà competere per lo scudetto potrà tenere il passo delle due grandissime di questo campionato io non l'ho vista propriamente così o meglio sicuramente poteva essere una serata molto molto importante per i bianco celesti anche l'ambiente è stato fantastico e non posso non citare la coreografia iniziale dell'olimpico e della curva nord con quell'aquila disegnata dalla luce degli smartphone una bellissima trovata un impatto scenografico molto potente per cui lo sottolineo volentieri quando il tifo è questo quando le manifestazioni dei tifosi negli stadi sono queste è veramente uno spettacolo nello spettacolo poi la partita non è stata così spettacolare però ripeto vi voglio portare quelle che sono le mie sensazioni io ho l'impressione che sì sia una un'occasione che la lazio non ha centrato però più che due passi mancati più che uno scatto mancato a me sembra comunque un passettino ma un significativo passo fatto in avanti perché era una partita golosa per il fatto di recuperare dunque di poter far punti con le avversarie ferme ma era anche la partita più difficile possibile in questo momento un momento in cui ci sono impegni pressanti in cui simone zaghi non ha a disposizione tutta la rosa è un momento in cui gli è arrivato in casa il verona una squadra che fa venire il mal di testa a chiunque in questo periodo ma in generale si può dire in questo campionato una squadra che ti gioca addosso una squadra che ti impone ritmi alti che ti chiama ad uno sforzo profondo è una squadra che sa benissimo come fare il risultato lo ha dimostrato in tante partite l'ultima a san siro contro il milan ma penso anche prima alle difficoltà che ha creato a domicilio alla juventus all'inter per cui non è propriamente un risultato mancato in una partita abbordabile è più che altro un risultato uscito da una partita in cui abbiamo visto tante cose e in cui sono arrivati anche dei messaggi se parliamo dei segnali ma non so quanto sia legittimo parlarne quanto sia veritiero questo questo pensiero però se parliamo dei segnali insomma il segnale è stato anche un po beffardo la lazio non faceva 0 a 0 da 65 partite da quasi quattro anni da un derby dell'aprile del 2016 e si è stoppata ha trovato un pareggio a reti bianche come si diceva una volta proprio appena dopo la fine di un mercato in cui ha cercato il colpo di coda prendendo un centro avanti e non riuscendo a portare a formello girù per qualcuno è stato un problema un colpo mancato perché la lazio servirebbe un'alternativa lì davanti e in effetti in questo 0 a 0 se parliamo di figure se parliamo di campo cosa è mancato principalmente alla lazio i suoi attaccanti caicedo ha giocato una partita normale addirittura immobile ha sbagliato un paio di occasioni sbagliato una parola grossa insomma ha avuto qualche palla gol e non è riuscita a concretizzarla nessuno si azzardi a dire che la mancata vittoria è colpa di immobile o ad avanzare qualche critica un giocatore che sta tenendo medie realizzative fuori da ogni logica e fuori da ogni normalità semplicemente per una volta si è fermato lui la lazio non ha segnato però va anche considerata un po di cattiva sorte perché comunque la lazio non è che non abbia prodotto contro una squadra che sa limitarti molto bene la lazio colpito due pali la lazio ha tirato una ventina di volte la lazio anche ha avuto la forza di arrivare fino in fondo di chiudere il verona nella propria area la lazio si è costruita due occasioni da gol significative in tempo di recupero quel tempo di recupero che in questo campionato le ha portato tante gioie stavolta non è stato generoso però ripeto oltre il novantesimo c'è stato quel tiro di lui salberto parato molto bene da silvestri e c'è stata quell'occasione grandissima per milinkovic savage su un mancato intervento della difesa milinkovic non ha stoppato nel modo giusto il pallone sarebbe stato davanti alla porta sarebbe stato l'ennesimo colpo da 90 a tempo scaduto per cui non è neanche un problema di condizione di difficoltà di arrivare a crearsi delle occasioni semplicemente è stato un problema di concretizzazione e ripeto va considerata anche la validità degli avversari il valore della squadra di juric che è andata all'olimpico a fare un'ottima partita io non sono così sicuro che la presenza di girù o di chi per lui insomma di un altro attaccante da mandare in campo sarebbe stata una presenza determinante sì forse negli ultimi 20 minuti mettere una punta d'area di rigore un giocatore anche di chili e di centimetri avrebbe potuto dare alla lazio l'opportunità della palla lunga però innanzitutto il bunker veronese non è da attaccare così perché la squadra di juric è bravissima l'abbiamo visto anche a san siro domenica quando deve resistere si mette in trincea si compatte in area di rigore e ha dei colpitori di testa molto efficaci per cui la palla lunga secondo me non sarebbe stata la chiave per aprire questa cassaforte ho apprezzato molto invece il modo con cui ha mandato avanti la sua squadra in zaghi negli ultimi minuti con quel cambio pensato ripensato cambiato e poi effettuato un cambio all'apparenza difensivo fuori caicedo e dentro parolo un cambio invece perfettamente in linea con la filosofia con il gioco con il modo di affrontare le partite della lazio un modo che mi sembra che abbia prodotto dei risultati sotto gli occhi di tutti perché non è vero che è stato un cambio difensivo semplicemente in zaghi ha modificato la sua squadra con il materiale che aveva a disposizione sia ha tolto caicedo però ha alzato simultaneamente sia luis alberto che milinkovic savage che è andato lui con le sue qualità aeree con la sua stazza fisica a fare il riferimento per l'eventuale palla lunga e c'era arrivato ad avere l'occasione appena dopo il novantesimo ha sbagliato un controllo in area di rigore mettendo dietro due giocatori in grado sia ad avere un buon piede per aprire sia di poter portare la palla come lucas leiva e parolo per me era la soluzione giusta poi il risultato non è arrivato ma il calcio non è una scienza perfetta il calcio è l'arte di un pallone rotondo che può rimbalzare ovunque e può scheggiare un palo piuttosto che finire all'angolino e questo determina un risultato e ripeto il risultato non è poi così negativo per la lazio perché il rischio di inciampare seriamente contro questo è la scera analizzando poi la prestazione dei bianco celesti come detto sono mancati una volta tanto gli attaccanti ma mi sembra l'ultimo dei problemi non è mancato luisa alberto luisa alberto in un momento in cui secondo me non è al massimo proprio della brillantezza fisica e anche reduce da qualche problema tecnicamente invece è sempre l'imperatore di questo campionato un giocatore magnificente un giocatore che un po sfortunato al tiro perché è andato a prendere ancora due pali e mi pare che siamo a quattro nel corso di questa stagione un'altra sua altre due sue rasoiate sono terminate molto vicino ai pali con il portiere fuori causa silvestri gli ha negato il gol proprio con quella stoccata sul finale e al di là di questo luisa alberto è una calamita tecnica il pallone sembra voler andare da lui come succede solo con i più grandi forse davvero va da lui perché sa che viene trattato con tutti i riguardi e con il massimo della proprietà con il massimo dell'eleganza luisa alberto è un giocatore veramente meraviglioso ed è un giocatore che si sta confermando anche sulla continuità per cui questo rimane un capitale che ha la lazio e non hanno gli altri perché un giocatore di questo valore in quel ruolo forse adesso può averlo preso l'inter con ericsson però vediamo che tipo di ambientamento avrà di sicuro c'è la lazio il numero 10 più puro del campionato se la gioca col papu gomez però insomma sono anche discorsi un po leziosi papu va anche a giocare a tutto campo sono giocatori un po diversi però diciamo che l'antica arte del fantasista l'antica arte del numero 10 in italia proprio in italia il campionato più tattico del mondo e dopo anni in cui si è cercato di estinguere questa categoria oggi è molto ben rappresentata e un'altra menzione la voglio fare per stracoscia stracoscia nei momenti in cui il verona è andato a bussare perché il verona poi è squadra coraggiosa è squadra che ti imbriglia squadra che ti viene addosso ma è squadra che non rinuncia mai alla possibilità di buttarti per terra e di pungerti nei momenti in cui il verona è arrivato stracoscia ha risposto da grande portiere questo è veramente in potenza un portiere molto importante fra i pali è già un elemento di assoluta affidabilità portiere plastico portiere reattivo portiere che ha anche la soluzione istintiva la soluzione di riflesso deve aumentare qualcosa sulle uscite alte perché in questa stagione derby club qualche errore per per uscite un po allegre lo ha causato però se vediamo l'età di stracoscia se vediamo comunque le prospettive che ha davanti io credo che il livello attuale sia di esperienza che di valori maturati è molto molto interessante è normale che un portiere della società abbia ancora delle cose da rifinire e delle cose da migliorare e ripeto le garanzie che da fra i pali sono già di primissimo livello migliorare le uscite migliorare magari un pochino il gioco con i piedi ma soprattutto in quelli che sono i fondamentali del portiere potrebbe portarlo a diventare un numero uno in tutti i sensi poi per il resto la lazio incassa questo punto mi è piaciuta la serenità con cui ha parlato simone zaghi alla fine della partita allineata al mio pensiero che questa non è una occasione sprecata ma un'ulteriore testimonianza di passi avanti adesso c'è una partita cruciale la partita contro il parma di domenica perché lì invece il risultato deve essere fatto deve essere un risultato pieno altrimenti ci si comincia un pochino a impastare con i piccoli passi ed è una partita in cui la lazio probabilmente non recupererà ancora qua in correa ecco discorsetto sul tucco rimango convinto ve l'ho detto più volte sono coerente con il mio pensiero che la lazio non avesse un bisogno assoluto di fare mercato nel mese di gennaio anche se proprio la partita col verone è sembrata dare un assist in questo senso ma occhio agli assist che forniscono le singole partite perché a volte sono illusori sono palloni che poi portano a dei contropiede quello di cui sono assolutamente convinto è che un giocatore come qua in correa non lo possa regalare nessuno perché è vero che caicedo è la migliore alternativa possibile però la capacità del tucco di lavorare negli spazi di associarsi di fornire soluzioni sia sul piano dell'assist che del gol di spargere polvere magica calcistica di saltare l'uomo di accelerare è una capacità che non si regala e sul mercato di gennaio sicuramente non era disponibile un sostituto all'altezza di correa magari un giocatore di quel tipo lì una seconda punta un trequartista una mezza punta alla lazio avrebbe fatto comodo però ripeto ragioniamo sui livelli c'era un giocatore appetibile a buone cifre di quel tipo di livello in quel tipo di ruolo disponibile io credo di no dunque meglio rimanere così meglio cercare di recuperare il prima possibile da questo problema muscolare qua in correa perché sono sicuro che appena si ricomporrà il quadrato magico milenkovich savic luiz alberto correa immobile la lazio tornerà a fare grande paura e parlando proprio anche di milenkovich savic non ci sarà nella trasferta col parma non ci sarà neanche radu due squalifiche portate ancora una volta dall'utilizzo estremamente robusto dei cartellini gialli che stanno facendo gli arbitri italiani specialmente ultimamente in generale in questa stagione bisogna seguire pedissequamente il protocollo ifab questo almeno è quello che emerge dalla valutazione degli episodi nel calcio italiano dicevo queste due squalifiche aprono delle necessità di variare la formazione per simone inzaghi credo possa giocare bastos al posto di radu alternativamente rientrerà luiz felipe potrebbe essere modificato il posizionamento di patrick magari addirittura a cerbi aperto sulla sinistra toccare la difesa non è il massimo però insomma una squalifica di radu si può anche servire un po meno la squalifica di milenkovich savic perché giocherà con ogni probabilità parolo e lì le dinamiche cambiano per la posizione nuova ed estremamente importante che ha assunto sergei milenkovich savic in questa stagione facendo entrambe le fasi e diventando in certi momenti molto significativi addirittura il vero centravanti della squadra con questi suoi inserimenti da dietro con una squadra come il parma che sa difendersi che sa fare densità nella propria metà campo che sa anche essere molto educata tatticamente questa variabile viene a mancare ed è un qualcosa che potrebbe creare delle problematiche però fa parte del gioco e se questo 0 a 0 con il verona deve essere considerato non come un passo falso ma come un risultato fisiologico allora la partita di parma deve portare una vittoria dove se arrivare un altro pareggio addirittura una sconfitta le cose assumerebbero un contorno differente anche perché la vera grande partita all'orizzonte lì davanti a non molta distanza è quella che si giocherà fra dieci giorni e lazio inter lì sì che cominciamo ad entrare nel campo dei dentro fuori perché lì comunque sarà una sorta di spareggio da fuori secondi anche se è ancora presto io l'impressione che questo campionato rimarrà così vivo così interessante così intenso piuttosto a lungo però insomma questo lazio inter se vuoi credere veramente nel sogno quasi impronunciabile deve essere una partita in cui in cui la lazio mette in tasca la posta piena come ha fatto del resto contro la juventus in due occasioni in questa stagione non ho nessun tipo di certezza ancora verso questa partita non mi azzardo a fare nessuna previsione se non una sarà dura per la lazio ma sarà altrettanto dura per l'inter andare a fare il risultato pieno all'olimpico chiudo doverosamente e gustosamente parlando della partita che ha fatto il verona perché in tutto ciò gli occhi erano puntati sulla lazio su questa grande occasione di inserirsi fra juventus e inter ma il verona è arrivato e il verona seppur con un'assenza importante come quella di amrabat ancora una volta ha confermato che tipo di squadra sia quella di juric una squadra che guardando la classifica potrebbe addirittura mettersi a sognare se non fosse appunto che il pragmatismo il contatto estremo con la realtà di più la costruzione della propria realtà mattone per mattone pietra per pietra sasso per sasso sia stato il motivo per il quale questa è la più inaspettata e probabilmente anche più bella rivelazione del campionato il verona continua a confermarsi su questi livelli è un verona cresciuto all'interno della stagione inizialmente molto impermeabile poi pian piano una squadra che arriva anche a fare gol che arriva anche a costruire è un verona camaleontico perché adesso juric sembra gradire soprattutto contro le grandi squadre contro squadre di rango superiore questo gioco senza un centravanti di riferimento ne aveva in panchina tre ieri sera e in campo c'erano delle mezze punte a fare da riferimenti avanzati un verona che ha operato anche abbastanza bene sul mercato in quest'ottica perché è andato a garantirsi un futuro con delle cessioni molto onerose ma a partire da giugno e allo stesso tempo ha messo altri giocatori fra le linee come borini che deve ancora prendere il ritmo ma è un giocatore da verona e se rick è uno che può dare della qualità può dare dell'imprevedibilità lì dove agiscono verre zaccagni tutti i giocatori estremamente cresciuti all'interno della stagione tutti i giocatori estremamente funzionali a questo gioco veloso mi sembra che stia ritornando sui livelli di inizio campionato ed è quello che mette la tecnica i laterali io non parlo sempre dei laterali del verona ma sono impressionanti il lavoro sia atletico che tecnico che riescono a garantire faraoni e lazovic è un qualcosa di veramente veramente gustoso è veramente veramente determinante perché la forza propulsiva laterale del verona è uno dei fattori più importanti di questa squadra e poi una menzione particolare la voglio fare per il sostituto di amrabat ovvero pessina altro giocatore che mi piace molto perché è intenso è discretamente qualitativo è un giocatore estremamente focalizzato che puoi trovarti in area di rigore con i suoi inserimenti quando gioca da trequartista ma che sa anche tornare all'antico al suo ruolo originale quello in cui è cresciuto e si è presentato ovvero quello di centrocampista centrale puro ha fatto una partita ottima pessina ed è un elemento di polivalenza un elemento di mentalità un elemento di valore un altro elemento di valore a disposizione di questa splendida squadra che stramerita la sua classifica contro ogni pronostico ma grazie ad ogni minuto di realtà stagionale e non fatevi ingannare dall'atteggiamento di Iuric dal fatto che sia stata sottolineata la sua esultanza per uno 0 a 0 all'olimpico io penso che il 95 per cento delle squadre del mondo oggi esulterebbero per non perdere contro un treno lanciato come la Lazio quindi ci sta assolutamente questa soddisfazione per un'ulteriore dimostrazione di solidità ora la Juventus incrocerà il Verona incrocerà la via della Juventus in una partita che sarà soprattutto una grande mostra di orgoglio da parte di una piazza che ha fatto la storia del calcio italiano e che è tornata ad essere grande protagonista una partita molto difficile per la Juve una partita molto bella da vedere sabato sera in quello che sarà un altro turno di serie A pieno di curve pericolose pieno di alta velocità pieno di appuntamenti che andremo ad analizzare come sempre quotidianamente qui sul nostro canale per cui ci risentiamo prestissimo per quanto riguarda i temi del nostro campionato anche perché c'è un anticipo venerdì ma ve lo dico ci risentiamo già in giornata per quelli che sono i temi del nostro fantacampionato perché oggi è giovedì e prima di sera vi voglio parlare della Borges League e di quanto succede su Kikest per cui ci risentiamo fra qualche ora